Allora Aspetta Il 27 di? Gennaio Ok, vai, dì qualcosa tu adesso 2024 In occasione In occasione dell'ottavo anniversario Smilf Vi aspettiamo ovviamente A? A? Colle Paciocco Colle Paciocco in provincia di? Roma Ok, siamo preparati? Vi aspettiamo Vi aspettiamo il 27 di gennaio 2024 Accoglie Paciocco per il nostro Ottavo anniversario La nostra nascita ovviamente La Street Band Smilf sarà lieta di accogliervi In quello che sarà una serata da urlo In un spettacolo garantito Con tante sorprese Ma la cosa più bella sicuramente sarà La vostra presenza Ricorderemo un anno ricco di emozioni Di nuove amicizie Di tanti luoghi Vissuti e visitati Ovviamente Quindi se in questo caso il maestro Non ha nient'altro da dire Dai, dai qualcosa Aspettiamo tutta la prologue Tutta la prologue Aspetta Aspettiamo una sola prologue Tutte le prologue A cui abbiamo suonato Durante la tournée Ok Invitiamo ovviamente tutte le prologue Le associazioni Gli enti privati I comuni Che ci hanno ospitato in questo anno Per noi sarebbe una cosa meravigliosa E quindi vi diamo appuntamento A Colle Paciocco Tivoli Provincia di Roma Il 27 Rimanete connessi Vi aspettiamo E' tagli E' tagli 8 mila video E' tagli